Buongiorno a tutti, io sono Lorenzo, sono Andrea Zaffaterra. L'azienda agricola Zaffaterra lavora più di 250 ettari tra mais, frumento e altre coltivazioni. Abbiamo 650 vacche in lattazione e oltre 1100 capi. Quest'anno abbiamo costruito altre due stalle da circa 500 posti per tutto ciò che riguarda la rimonta, dai 20 giorni fino all'asciutta e in un futuro prossimo volevamo ampliarci fino ad arrivare a circa 700-750 vacche in mongitura. Siamo partiti tre anni fa con l'acquisto di due 6.140 TTV per la finagione e i trasporti e contenti della potenza e della comodità abbiamo deciso di acquistare due anni fa il 7.250 TTV per l'aeratura e il mestiere di trasporto e spaggimento liquame. Ad oggi abbiamo deciso di prendere il 8.280 TTV sempre per i mestieri più gravosi e adibire il 7.250 per ciò che è quella del 8.50 jeden Grazie a tutti.